Fino a qualche giorno fa lei sarebbe stato qui in questa trasmissione quale candidato sindaco della Lega, in un contesto che però era diverso. In queste ultime ore il centrodestra ha trovato la sintesi, Anthony Aliano non è più candidato per la Lega, non sarà nemmeno candidato consigliere comunale, ma tutto nell'ottica di una ricomposizione avvenuta attorno al sindaco uscente e ricandidato a questo punto da tutto il centrodestra Ottavio De Martinis. Aliano, cosa è successo in questi ultimi giorni, in queste ultime ore? In queste ultime ore sicuramente la Lega ha dimostrato nuovamente di avere uno spirito di coalizione, eleganza e direi anche buonsenso, chiedendo nuovamente a me come candidato indicato dal sottosegretario d'Eramo, che ringrazio per la stima, che è reciproca peraltro, di fare un passo indietro per ricomporre un centrodestra che non poteva andare disunito. Noi abbiamo dimostrato negli anni e nel tempo di tenere molto alla unione della coalizione, tant'è che se lo ricordi io mi dimisi un paio di anni e mezzo fa spontaneamente proprio per ricomporre un centrodestra che era diviso a causa di alcuni componenti di Fratelli d'Italia che legittimamente ambivano a partecipare la giunta comunale. Mi dimisi anche per consentire all'attuale sindaco e presidente della provincia proprio di essere candidato come presidente della provincia e poi essere eletto, quindi è uno spirito quello della coalizione che ci appartiene senza dubbio.